Assessore, un corso di formazione professionale che è destinato a creare questa nuova figura di esperto nella gestione delle acque e nel risanamento del territorio. Intanto cerchiamo di capire perché il Ministero ha creato questo diploma, perché la regione lo approva, la provincia lo approva, una scuola lo offre agli studenti del territorio. Sì, innanzitutto buongiorno a tutti e grazie di questa domanda. Perché le acque? Perché l'acqua oggi è il grande tema che in tutto il mondo diventa centrale per lo sviluppo e per quello sviluppo che abbiamo detto sostenibile. La gestione delle acque. Le acque vogliono essere innanzitutto le acque dei fiumi, le acque dei nostri fiumi, ma per noi sono soprattutto le acque della nostra bonifica. Ha senso fare a Ferrara un corso di questo tipo? Noi abbiamo una grande tradizione di gestione delle acque, anzi il nostro territorio è fatto, come diciamo spesso, di terre e di fiumi. Dall'altra parte il Ministero anche su forte sollecitazione della nostra regione ha inserito nell'ultimo decreto proprio questa figura nuova. E questa figura nuova che può essere offerta da diversi istituti, ma noi abbiamo ritenuto nella nostra programmazione regionale di attribuirlo a quegli istituti che hanno una storia, una tradizione di analisi del territorio. E quindi l'abbiamo dato a Piacenza, ma molto più rivolto alla parte agricola. La stessa Parma, che purtroppo l'abbiamo visto in questi giorni, terribili, grandi problemi di esondazioni, è Reggio. E Ferrara. A Ferrara, all'istituto Leotti, proprio per la tradizione, la storia che questo istituto glorioso ha di terra, di analisi del territorio, di strumentazione sul territorio. Quindi non solo un dato di coerenza attuale, ma anche un dato di coerenza storica. Un corso quindi molto rivolto al domani, ma che però ha radici forti non solo sulla terra, ma anche sull'acqua del nostro territorio. Ecco, noi infatti l'abbiamo chiamato, per sintetizzare, tecnico delle acque. Siamo d'accordo con lei, l'acqua è una risorsa preziosa, diciamo, per la vita dell'uomo, per la vita dell'ambiente, delle campagne, delle case, delle città, delle fabbriche. E sicuramente però può anche essere un rischio, come lei accettava. Assolutamente. Ecco, i cambiamenti climatici ci fanno assistere a delle devastazioni, non solo nel nostro paese, ma anche in tante altre parti del mondo, dove c'è o troppa acqua o troppo poca la siccità. Quindi Ferrara ha competenze forti. Però ci sembra che questa figura professionale vada oltre i confini del territorio per quanto riguarda gli sbocchi. Sì, però mi faccia fare un passaggio indietro. Ferrara. No, Ferrara su questo ha grandi competenze. Io ricordo che a Ferrara storicamente abbiamo dei consorsi di bonifica che sono stati di riferimento a livello nazionale e internazionale. Faccio un esempio. Uno dei mestieri che questi nostri ragazzi devono fare, prendendolo dall'antico mestiere dei geometri, è proprio la misurazione del territorio. Io ricordo che dentro a Palazzo Crispi, in via Borgoleoni, c'è la sede del consorzio e dice una cartografia storica che è unica al mondo. Ci sono le bonifiche ferraresi dal 600 in avanti. Quindi c'è un patrimonio storico in questo nostro territorio e ci sono degli enti, come appunto i consorsi di bonifica, che storicamente sono di riferimento. Però dentro alla nostra università abbiamo sicuramente dei punti di eccellenza a livello mondiale sulla gestione delle acque. Ricordo che in ingegneria c'è questo sistema di simulazione delle piene del po' che viene utilizzato non soltanto per capire il po' ma ad esempio per fare quello che diceva lei. La nostra università sta facendo assistenza tecnica a diversi posti in giro per il mondo, ad esempio in Sudafrica, dove esiste un problema di acque, contemporaneamente, come dice lei, di eccedenza di acque e di desertificazione e la nostra università di Ferrara su questo ha sicuramente un'eccedenza a livello mondiale. Ricordo che ci sono tra l'altro da noi una tradizione di presenza dei nostri enti pubblici nella gestione delle acque e del ciclo delle acque. Il ciclo delle acque vuol dire sia le acque sporche che le acque pulite, quindi sia le acque potabili che le acque reflue. Abbiamo grandi imprese tipo Era, ma abbiamo Clara, abbiamo cioè una serie di imprese anche di grande dimensione che sicuramente portano competenze. Però tutto questo, a ragione lei, noi sbaglieremmo a pensare che questo tecnico delle acque deve servire soltanto in mercato locale. C'è un mercato anche a livello nazionale e internazionale di sbocco per questi diplomati che diventa sempre più ampio. Noi riceviamo continuamente come regione richiesta da diversi paesi in giro per il mondo di richiesta di assistenza tecnica in questo settore, in questo comparto. E' un comparto, come lei ha detto giustamente prima, che riguarda quello che sta diventando, viene riconosciuto come il bene più prezioso. La scarsità dell'acqua o l'eccedenza di acqua diventerà nei prossimi anni un punto fondamentale. Ma quando si dice esperto dell'acqua, bisogna avere molto chiaro, esperto dell'acqua e della terra. Per questo si radica all'istituto Aleotti. Certamente, dall'altra parte la provincia di Ferrara, voglio dire, ha nel suo identikit, no, questo luogo, terra e acqua. Ma possiamo parlare, per allargare ancora lo sguardo, e la regione lo ha fatto, lei lo ha fatto e ci ha abituato anche a farlo, possiamo parlare di una economia dell'acqua, certamente molto radicata anche, diciamo, nell'ambiente, in uno scenario fatto di campagne, oltre che di acqua, di fiumi di mare, eccetera. Guardi, noi a livello di regione, lei sa che stiamo investendo moltissimo in due o tre attività che diventano cruciali per il futuro. Lo stiamo facendo non da soli, ma lo stiamo facendo col governo nazionale, con il governo italiano, e lo stiamo facendo sempre di più con il governo europeo, con la Commissione europea. Stiamo investendo moltissimo in cambiamento climatico. Prima perché abbiamo recuperato sul nostro territorio l'Agenzia europea sul cambiamento climatico e l'Agenzia nazionale sul cambiamento climatico che viene istituita con questa legge di bilancio. Secondo, abbiamo investito molto e stiamo investendo molto in quello che si chiama l'economia circolare, quindi tutto quello che è un'economia della sostenibilità, in cui non soltanto si recuperano i rifiuti. Questa è un'immagine utile, ma soprattutto si imparano a gestire le risorse fondamentali per la vita umana. E terzo, stiamo investendo proprio sulle acque, perché il concetto di gestione dell'acqua non solo vuol dire ridurre al minimo la dispersione degli acquedotti, cosa su cui noi abbiamo investito da tempo, ma anche di riuscire a gestire le diverse tipologie di acqua per i diversi bisogni. Abbiamo visto che c'è stata una riduzione drastica nella pioviosità media e quando arriva giù invece arriva giù tutto ad un tempo. Questo è un effetto di cambiamento climatico significativo che noi registriamo nel nostro paese ma che si è registrato in tutto il mondo. Questo tra l'altro sta procurando dei problemi enormi a livello mondiale. Il riscaldamento della terra sta procurando una fortissima riduzione delle aree ghiacciate, delle aree glaciali e questo sta innalzando di molto anche i livelli dei mari con delle conseguenze veramente devastanti. Così come ci sono moltissime città nel mondo che stanno crescendo a dismisura ma sono state costruite sul delta dei fiumi, la grande area cinese, noi spesso parliamo di Cina ma su cui ad esempio Ferrara è l'università in Europa che ha investito di più, che è il Guangdong, di cui parliamo spesso, cioè l'area fra Hong Kong, Shenzhen e Canton. Una conurbazione di 30 milioni di abitanti è sul delta di un fiume, cioè su un'area sappiosa come in fondo è il nostro delta. Nel mondo tutti si stanno occupando del problema della gestione delle acque, dei fiumi e poi proprio del recupero dell'acqua per la vita delle persone, così come si sta occupando di una cosa fondamentale. A molti non ci rendiamo conto della quantità di acqua che serve per fare alcune produzioni, alcune trasformazioni industriali, l'ottimizzazione del ciclo dell'acqua che coinvolge non solo l'agricoltura ma anche l'industria. Quindi un tecnico dell'acqua è una persona che avrà diversi e molteplici sbocchi. La mia attenzione però è proprio questo, il mio invito che io rivolgo non solo all'Istituto Alleotti a cui va tutta la mia stima e tutta la mia stima al suo dirigente e ai suoi docenti, ma questa è una cosa che può permettere a tutta la città, a tutto il territorio nostro, tutta la nostra provincia di posizionarsi a livello non solo nazionale ma direi anche europeo ma anche di più direi. Noi veniamo da una storia antica di bonifiche. Se c'è una cosa che caratterizza questo nostro territorio, come lei ha detto giustamente, sono la terra e le acque, i fiumi, le bonifiche. A me piacerebbe molto che in questo corso venissero ragazzi un po' da tutto il mondo, cioè vince un ragazzo da tutta Italia, non può essere un bel corso fatto soltanto localmente, ma è una di quelle robe che va e serve a riposizionare un territorio. Le faccio un esempio, io qualche tempo fa feci una lite con l'allora ministra quando venne fatta la riforma e l'allora ministra disse, ma per semplificare togliamo queste aggettivazioni e mi proponeva di togliere all'istituto professionale di faenza la parola ceramico. E io le dissi, veda ministro, se in tutto il mondo le ceramiche si chiamano faienze, quindi faienze, vuol dire che qui c'è una competenza che viene riconosciuta in giro per il mondo e quindi nel nostro istituto professionale ceramico vengono ragazzi da tutto il mondo. Stessa cosa quando mi propone di togliere la parola motoristico all'istituto di Maranello. Ecco, a me piacerebbe che al corso Acque di Ferrara venisse riconosciuto, e questo mettendo insieme tutto l'università, l'ITS, l'istituto tecnico superiore che è la conseguenza naturale di questo corso, le bonifiche, le grandi società oggi di erogazione di servizi dell'acqua, gli archivi storici, il nostro archivio storico e la nostra biblioteca che ha una serie di mappature del nostro territorio che sono una ricchezza inaudite, quando tutto questo messo assieme facesse di questo corso e del nostro Aleotti il punto di riferimento a livello nazionale ed europeo di quello che è il mestiere assolutamente del futuro che è la gestione delle acque. Quindi il mio invito è non soltanto lo facciamo ma pensiamo in grande, bisogna pensare in grande, perché bisogna posizionarsi e facendo così si fa una straordinaria azione di sostegno e di promozione di tutto il nostro territorio. Questo è quello che io vorrei e questo è il mio augurio a tutti voi.